Quindi che è successo una volta che hai rimesso i piedi a terra? Allora, una volta che ho rimesso i piedi a terra già da qualche anno avevo deciso di riconquistare la parola e quindi ho messo più energia nel cercare di lavorare nel teatro di parola e soprattutto sto lavorando nel teatro ragazzi con molta gioia perché incontrare i bambini è sempre bellissimo e poi ci sono delle situazioni comunque di teatro. Quindi se è aperta eventualmente a collaborazioni, se qualcuno che ti vede ora è interessato ma magari diciamo perché insomma magari qualcuno pensa che va bene questa attrice già ha il suo cammino già le sue persone che la chiamano, sì ma noi siamo sempre in cercare di lavoro quindi alla fine del video nella descrizione i link, i contatti Assolutamente Anche perché per noi è veramente importante diciamo imparare sempre quindi andare a incontrare realtà diverse devo dire nel mio percorso che è stato fatto da tanti teatri perché poi il teatro non è uno, sono tanti teatri ho incontrato tante famiglie teatrali Stai dicendo una cosa molto bella sulle famiglie teatrali però effettivamente i teatri sono tanti, il teatro è un universo con tante galassie, tanti pianeti stelle, soli, lune sì 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 è veramente un universo multiforme ed è sempre bello incontrare realtà nuove io per tanti anni mi sono sentita come obbligata a stare solo su un binario perché poi il teatro è anche religioso, è anche un po' una religione religione come terminologia mi piace un po' meno rispetto a religioso comunque spirituale perché religere, relegare, legare, tenere un po' sotto controllo che qualche compagnia ha questa tendenza anche sicuramente però la compagnia è una cosa, gli esseri umani diciamo gli attori, i registi sono una cosa proprio il fare teatro, il senso del teatro è un'altra e non sempre si è diciamo che ha che fare col sacro ecco, forse in qualche modo in alcuni casi di più, in alcuni casi di meno però per me ha che fare col sacro e in un certo tipo di teatro questa religiosità può diventare una gabbia io quindi per tanto tempo mi sono sentita come di dovermi votare a un teatro solo e invece poi mi sono liberata, mi sono aperta, ho fatto dei percorsi spirituali parallelamente e quindi mi sono molto liberata come essere umano sia dagli schemi familiari per cui fare l'attrice era una cosa da ragazza frivola sia dagli schemi teatrali che io assorbivo come schemi e c'è, era una diventata di cuore poi alla fine quindi come dicevi all'inizio, quel senso di colpa che dice ma io veramente non sto facendo quello che devo fare non rispondo a un'aspettativa che però era molto... mi senti come se il tuo da fare, il tuo da farsi, il tuo impegno che è comunque totale a 360 gradi e totale proprio appunto mente, spirito, corpo, fisicità, vocalità, tutto emotivo, non ne parliamo, psicologico, lasciamo perdere tutto questo passa sempre in secondo piano rispetto magari ad altri... ad altri lavori altrettanto importanti, altrettanto impegnativi che però vengono considerati lavoro lavoro, sì, 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 lavoro questo è, diciamo, ti stai divertendo, siccome ti diverti non è lavoro invece secondo me è molto buono divertirsi lavorando, lavorare divertendo fare quello che uno ama perché se abbiamo dei talenti o comunque se siamo chiamati ad esprimere un qualcosa che abbiamo dentro è perché quel qualcosa ci è stato donato per un motivo abbiamo, anche qua torniamo su un altro termine, una missione ma lo dobbiamo di noi, con il suo lavoro, con il proprio lavoro non solo nel teatro, però ognuno ha quel dovere appunto, missione nel senso proprio di dovere, di esprimersi al meglio perché ha delle potenzialità che può contribuire al meglio per gli altri, ognuno al meglio scambiandoci proprio vicendevolmente sì, io penso che abbiamo la missione di essere noi stessi, no? cioè di fiorire, di realizzare nel miglior modo possibile quello che siamo e quindi negarsi delle parti comunque è sempre qualcosa di dannoso per noi e per gli altri e questa cosa è una cosa che veramente io ci sto mettendo una vita a conquistare e che penso sia però un'eredità importante da lasciare ai miei figli sicuramente, insomma io gliela vorrei lasciare ma il giovane in generale, poi anche tra di noi certo, iniezioni proprio potenti queste perché se no una volta si spegne, no? se non ha sempre anche un'energia che ti... sì, e poi io non penso neanche di avere un talento come ti dicevo l'altra volta al telefono, no? una volta una persona con cui poi ho lavorato come regista mi venne a vedere uno spettacolo e mi disse sì, ma non sarai la dose, però lavori bene, no? e va bene, cioè non... ma riuscire a colpire appunto che una persona comunque ti dice lavori bene sì, esatto, basta quello però per me con un sacco di tempo invece è stato ho il talento, non ho il talento, sono fatta per questo, non sono fatta per questo invece no, è la passione ed è la voglia di sfidarsi, di superare i limiti che ci sono che io incontro sempre, ogni volta che comincio le prove di qualcosa io ho un momento che dico, oddio, no? sì, sì aiuto e poi dico, ok, va bene, c'è un ostacolo, c'è un limite lo posso superare, devo lavorare ci devo lavorare è proprio questo perché poi alla fine, talento o non talento perché l'abbiamo pure usata troppo questa parola ed è molto... suscita molte incomprensioni insomma viene vista in un certo modo però talento o non talento alla fine è un bravo attore quello che si mette a lavorare su se stesso innanzitutto e si mette in gioco continuamente a superare, come hai detto tu, i propri limiti sì, i limiti e imparare continuamente esatto, ed è bellissimo, è una cosa bellissima però penso che si faccia in ogni lavoro che viene fatto bene quindi tutti i lavori sono parimenti dignitosi e anche fare l'attore sì è un lavoro ed è duro, è un lavoro impegnativo sì, sì, assolutamente però noi adesso, siccome siamo anche molto giocherelloni perché noi comunque artisti... la difficoltà dell'artista è quella di essere anche di mantenere vivo quel gioco che abbiamo la voglia di giocare nonostante appunto i giudizi anche degli altri e noi invece faticosamente continuiamo a giocare che giochiamo con i nostri bigliettini colorati quindi mettiamo questi foglietti che io non ho ancora superata quella paura cosa? la paura dei brovini non è ancora superata la paura dei brovini non è ancora superata e allora parliamone parliamone e allora parliamone e allora ho ancora superata la paura dei brovini giustamente allora è unico però però voglio superarla perché che cos'è che cos'è che terrorizza così tanto? a parte quello che abbiamo detto all'inizio la paura di non farcela che è evidente ma che cosa? perché io tra l'altro sto proprio preparando un video sull'ansia da prestazione, da provino e come superarla intanto c'è la difficoltà di sapere quando ci sono i brovini chi fa i brovini già quello diciamo è uno scalino importante perché non sono cose che si sanno facilmente quel teatro sta cercando qualcuno da fare il brovino diciamo che funziona moltissimo con il passaparola sì oppure ci sono delle agenzie specializzate però anche però sono più cinematografiche televisive che non teatrali sì sì certo il teatro è difficile quindi si lavora molto anche per diciamo per prossimità con delle situazioni con degli ambienti e poi vabbè il provino è come fare un esame io sono sempre stata una molto appunto con un'ansia da prestazione importante quindi per me per esempio gli esami all'università erano o prendo 30 o non ci vado anche lì ho dovuto insomma abbassare parecchio le penne cioè relativizzare tanto e quindi la paura del provino rimane allora dimmi c'è stata una volta in cui hai ricevuto un no che invece ti ha fatto bene che hai sentito veramente che dicevi per come tu hai reagito a quel no ti sei sentita che stavi superando anche la paura perché poi alla fine nel momento in cui tu riesci a reagire bene al rifiuto non hai neanche più paura di trovarti davanti ulteriori rifiuti guarda una volta che poi ho avuto insomma degli sviluppi invece positivi questa cosa era per uno spettacolo per ragazzi sì e io facevo Ariel avevo portato il provino avevo portato Ariel in napoletano dalla tempesta non sei fatta delle ultime cose che ho fatto io a Ariel no e l'avevo portato però dalla tempesta tradotta da Edoardo quindi in napoletano e mi ero divertita tantissimo a preparare il provino mi sono divertita un sacco quindi in realtà quando sono andata a fare il provino l'incontro con il regista è stato molto bello e quando non mi ha scelta non ci sono rimasta male perché comunque lì era accaduto qualcosa di vero di autentico questa è la cosa più bella veramente che potevi dire di aiuto per vivere il provino nel migliore dei modi ed è proprio questo cioè viversi il momento presente come un'occasione di crescita tant'è che poi da quell'incontro successivamente sono nate delle collaborazioni comunque quel regista non si è dimenticato di me e mi ha chiamato per lavorare quindi è stato comunque un provino vincente assolutamente comunque sono semi che noi andiamo a mettere per cui insomma io penso che voglio fare un sacco di provini bene allora invece proviamo adesso a scrivere un pensiero da lasciare così come come regalo come filo conduttore anche di questa rubrica al prossimo ospite d'accordo quindi qualche cosa che ti ha ispirato la nostra chiacchierata ma lo devo dire lo devo scrivere e basta no 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 rimane misterioso lo scopriremo la prossima puntata infatti tra pochissimo tu leggerai il bigliettino della scuola del precedente mentre tu scrivi ricordo che questo mentre tu scrivi io scrivo io scrivo perché così almeno copro i vuoti ok ricordo che questo bigliettino è di Aurora Tomarchio che è stata qui appunto la volta precedente che è stata qui a portarci la sua esperienza di costumista di non solo di spettacoli teatrali ma veramente di tante attività dal patinaggio a sport vari e soprattutto anche con le drag queen è una persona veramente dolcissima bravissima e chissà che cosa ha scritto adesso ce lo leggerai tu e intanto alla prossima wow speriamo che venga preso bene allora non fermiamoci mai come punti in movimento che non troveranno mai una fine Aurora Tomarchio bellissimo mi sembra che sia coerente con quello che ci siamo detti punti in movimento assolutamente non fermiamoci mai bellissimo e anche sui grampoli mi raccomando sui grampoli mai a da fermi si cade questo lo posso tenere? no no te lo riscrivo te lo ricordo me lo ricordo no no te lo riscrivo comunque perché li conservo tutti il nostro minestrone io non ho affermato però ah sì sì grazie bene grazie Simona senti Francesca però io vorrei fare e farmi soprattutto un regalo e vorrei dire una poesia che avrei potuto portare al provino per la scuola di recitazione che non ho mai fatto ma questo è un regalo che ci fa anche a noi è un regalo che siamo molto molto curiosi di sapere che cosa avrebbe portato Simona al provino che in realtà non ha mai fatto e lo fai qui davanti a noi grazie Simona grazie a te Francesca si intitola L'onestà de mi nonna è di Trilussa e quindi ci riporta anche a mia nonna e dice così quando che nonna mia che ho marito non fece mica come tante tante che dopo un po' se troveno l'amante lei in tanti anni non l'ha mai gradito dice che un giorno un vecchio impecorito che gli voleva far da spasimante gli disse da regalo sto brillante se venite a piavero in un sito ma nonna che era onesta non ci andiede anzi gli disse statene lontano tanto che adesso quando la riconta ancora ci si muazzica le mano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti